Musica Questo libro di Adelaide ha rappresentato un momento importante perché non è per niente semplice assolutamente come dire scrivere soprattutto di quella che viene considerata la malattia del secolo e la malattia senza guarigione questo libro invece rappresenta uno status quo, un momento importante soprattutto e anche perché dimostra che c'è la possibilità di uscire fuori dal problema cancro dicevo che non è solo ed esclusivamente una questione di tipo scientifico c'è una problematica di tipo umano che bisogna affrontare ogni volta che io faccio una diagnosi di tumore e ne faccio intorno a 130-150 all'anno ovviamente cambio la vita alle persone forse distruggo anche qualche sogno ma bisogna sempre e comunque prendere coscienza della realtà e lottare affinché le cose vadano per il meglio il problema del tumore della mammella è un problema estremamente esteso questo è la prima causa di morbidità e di mortalità nelle donne e anche qui nella nostra zona è molto molto sentito dal punto di vista epidemiologico è la prima causa anche nella nostra zona è una problematica che deve ricondursi in quella che sono i termini essenziali della malattia cioè una malattia personalizzata una malattia che va curata in modo personalizzato sulla paziente che tenga presente di tutti gli aspetti che possono essere appunto aspetti non solo tecnici e quindi non solo per quanto riguarda la chemioterapia la radioterapia ma anche questo nuovo modo di affrontare il problema cioè di affrontarlo nella sua totalità con tutte quelle metodiche che sono di medicina anche complementare che hanno un substrato ovviamente scientifico e che ci diano la possibilità di far uscire fuori le persone da questo tunnel ovviamente bisogna dire che la sopravvivenza per i tumori della mammella nei primi stadi è una sopravvivenza molto molto alta anche perché la storia naturale della mammella è una storia naturale nel senso della progressione tumorale è una storia molto molto lunga io credo che bisognerebbe agire soprattutto su due elementi il primo elemento è quello della prevenzione una prevenzione reale perché noi con tutte le metodiche che utilizziamo dalla visita, dall'ecografia, la mammografia ultimamente la tomosintesi, la risonanza magnetica cerchiamo di fare una diagnosi talmente precoce affinché la paziente poi non abbia diciamo problematiche sia chirurgiche molto gravi, molto estese sia dal punto di vista chemioterapico e questo ci dà la possibilità appunto di fare quella prevenzione secondaria o diagnosi precoce che mette la paziente in un ambito di sicurezza questa è la prima fase riuscire a fare invece una prevenzione reale e quindi soprattutto per non fare venire una patologia così seria significa agire anche sulla qualità della vita e sul modo di vivere un'alimentazione che riduca l'apporto di carne e riduca anche l'apporto di latte quindi di quelle che sono le proteine di tipo animale può migliorare la situazione esimersi dal fumare oppure per esempio riuscire a fare una passeggiata di mezz'ora tre quarti d'ora a passo abbastanza sostenuto tutti i giorni fa sì che ci possa essere una reale prevenzione di questa patologia la seconda fase è l'attività di tipo diciamo terapeutico accanto a quelle metodiche che sono ormai delle metodiche classiche che sono la chemioterapia l'ormonoterapia l'immunoterapia la terapia radiante possono essere associate tutte nuove metodiche che ci danno la possibilità di aumentare la guarigione delle pazienti che possono essere per esempio i campi magnetici pulsati a bassa frequenza che possono essere alcuni integratori che ci danno la possibilità di far sì che diciamo le pazienti non possono avere né recidive né riprese di malattia è un problema estremamente complesso che va affrontato come dicevo caso per caso ritornando a quello che ha scritto Adelaide ritornando appunto alla prefezione che ha voluto che io facessi in questo libro è una ragazza di 30 anni è una ragazza molto molto giovane molto coraggiosa che chiama le cose così come stanno e quindi che non si nasconde dietro un dito che soprattutto ha la voglia e la forza di reagire e di guarire ci sono casi eclatanti in medicina di guarigioni anche senza nessuna terapia perché agiscono su quello che è diciamo il curatore essenziale che è proprio il nostro organismo quindi ritengo che noi abbiamo grandi capacità di poter affrontare anche un problema serio e di poterlo sconfiggere e di poterlo sconfiggere